Nel giorno del Via Libera Provinciale allo stoccaggio a Battipaglia, il Vice Presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, smentisce un sito di stoccaggio presso lo Stir di Battipaglia. L'Assessore Bonavitacola lo scrive in una lettera indirizzata alla Sindaca Cecilia Francese. Ho riferito alle società provinciali, nell'incontro di martedì, sulle recenti approvazioni di alcune modifiche alla legge regionale sul ciclo dei rifiuti, che rimandano al piano d'ambito che prevede la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli Stir per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato. Per Battipaglia sarà l'ente d'ambito ad avvalersi di tale norma con le conseguenti scelte localizzative alle quali non si è fatto riferimento durante l'incontro. Lo scopo della norma, conclude il numero 2 della regione, è quello di alleviare di Stir ed eventuali criticità nei processi di evacuazione verso gli smattimenti finali, a causa di eventuali guasti presso il termovalorizzatore di Acerra o per altre regioni non prevedibili.